Benvenuti in Aspiranti Caffè, io sono Michael e questo è il luogo in cui gli aspiranti fotografi si ritrovano per riflettere delle esperienze, il percorso e la vita nella fotografia, il tutto in dieci minuti molto jazz. Buonasera Aspiranti Fotografi e benvenuti in una nuova puntata di Aspiranti Caffè. Come ogni settimana siamo qui per parlare di quella che è la fotografia ma vista da dietro le quinte, diciamo tutto quello che succede appunto in una giornata quotidiana. Noi problemi che una persona come me, un fotografo freelance nel 2020 affronta quotidianamente e insomma poi in realtà questo è più un dialogo perché come sapete prendo sempre i vostri commenti che mi lasciate qui sotto video di YouTube e vi ricordo che comunque se state guardando su YouTube sappiate che c'è anche Podcast Spotify e iTunes e vi consiglio di iscrivervi peraltro. E se invece mi state ascoltando lì sappiate che c'è anche la versione video su YouTube e quindi se volete lasciare un commento sotto la puntata potete farlo lì in modo che io poi riesca a leggerli e come dire rispondere a tutti voi. E come sempre voglio partire da un vostro commento preso dal video la volta scorsa in cui parlavamo di quattro errori che dovresti fare e Umberto Zompa mi dice E invece le critiche a cosa portano? Ricevere sempre critiche soprattutto quando non sono costruttive può farti mollare tutto oppure spingerti oltre. Tu come affronti le critiche? Come cerchi di trarre qualcosa di buono da esse? Allora questa è stata una domanda talmente interessante e quindi insomma ti ringrazio Umberto perché è davvero bellissima domanda che ho detto beh non solo rispondo ma proprio ci faccio un podcast ad hoc perché è anche un argomento piuttosto difficile a gestire che per anni ho fatto fatica a gestire e tuttora ogni tanto come dire mi metto alle strette in alcune condizioni però che devo dire ho imparato insomma a migliorare per insomma riuscire a districarmi meglio dalle situazioni. Allora come gestire le critiche? Interessante. Partiamo dal presupposto. Prima cosa bisogna ammettere che tutti abbiamo un livello più o meno alto di permalosità. Se si potesse misurare con gli esami del sangue sarebbe bellissimo no? Scusi vitamina C, D come va? Tutto a posto? Sì la E bene equilibrata? Ferro? Tutto a posto? Ecco permalosità invece come si ammessi? Se potessimo misurarlo sapremmo anche a che livello siamo e quindi riusciremmo come dire a gestire meglio le cose. Visto che dobbiamo farci un'autoanalisi, autoanalizzarsi è sempre molto più complesso però vi consiglio di farlo perché capire anche la natura del vostro essere permalosi vi può aiutare a imparare a come dire sciogliere dei nodi e poi affrontare meglio le difficoltà e soprattutto le critiche. Diciamo che ci sono diversi modi di essere permalosi, c'è quello per esempio che sa tutto lui, capito? Il re della fotografia è sceso in terra e spesso queste figure sono i ragazzi che iniziano da poco o i fotoamatori. Io per esempio ero uno di questi all'inizio, no? Cioè avevo studiato un mese e un mezzo, un mese e un quarto e già pensavo di essere il miglior fotografo del mondo e poi insomma ho dovuto ricredermi insomma. Però all'inizio avevo molto questa cosa. Poi invece ci sono i permalosi che come dire si offendono per qualsiasi cosa tu dica. Cioè non gli puoi dire niente, no? Sono gli intoccabili o qualsiasi cosa tu dica loro, no, loro si offendono subito. Oppure ci sono quelli che quando tu critichi loro in qualsiasi modo lo usano come pretesto per confermare quelle che sono delle loro debolezze, no? Tipo dicono ecco sì, vabbè io non sono bravo a far niente. E ognuno ha diversi modi di assorbire le critiche e appunto sapere un po' da che punto partiamo e anche che tipologia di permaloso siamo. E' interessante per muoverci poi, per migliorarci. Ora, la prima cosa che però controllo, faccio un check diciamo, quando ricevo una critica è questa. Anzitutto mi chiedo, chi mi sta criticando ma soprattutto la persona che mi sta criticando ha raggiunto i risultati che io vorrei raggiungere con la fotografia? Questo è importante perché se è una persona che insomma io stimo e ha fatto un percorso che io stimo, allora in questo caso già sono molto più propenso a ricevere le critiche. Che poi voglio fare una breve parentesi. C'è la critica fatta, come dire, in modo arrogante e quella invece fatta che più che critica magari è un consiglio. Ecco, alle volte noi se siamo molto permalosi confondiamo un consiglio normale per una critica, ok? E invece ci sono le critiche un po' più aggressive, io di queste seconde voglio parlare. Mentre la prima è molto più un problema nostro, la seconda a volte è un problema anche di chi ce la pone. Quindi mi dico, se però questa persona è una persona che ha fatto un certo tipo di percorso e soprattutto è la persona a cui io tendo di arrivare, cioè una persona che comunque stimo, allora questa critica tendo ad accettarla molto di più. Se invece una persona arriva a caso, mi fa una critica, non so chi sia questa persona, non è una persona che mi piace a pelle, non ha il passato e il futuro che io vorrei avere, allora dico, vabbè, cioè lascio proprio perdere, non mi ci metto neanche. Ma se vogliamo affrontare le critiche proprio in maniera, come dire, strutturata, c'è un metodo che ha inventato Starbucks e se lo cercate anche su internet è interessante, si chiama Metodo Latte, che ho letto tempo fa e sono andato a riprendermi stasera e insomma potrebbe essere un buon modo per difenderci dalle critiche e soprattutto per imparare a gestire al meglio. Allora, la L sta per, in inglese, listen, quindi ascolta. Rido perché mi ricordo benissimo quando anni fa, soprattutto nell'età dei 20-25 anni così, ero molto permaloso, molto più di adesso e comunque ancora adesso, infatti ve l'ho detto, no, intanto ci sono dei momenti critici, ma ai tempi ero davvero, davvero ingestibile. Mi ricordo che appena ricevevo una critica smettevo di ascoltare e questo fa sì che, ovviamente chiudendoci, tutto ci sembra molto più grande di quello che è, no? Alle volte se noi avessimo la capacità di chiudere la bocca davanti a una critica e ascoltare esattamente quello che la persona ha da dirci, forse riusciremmo a prendere la critica in maniera diversa, magari in maniera più adulta e costruttiva. Invece, spesso noi appena riceviamo una minima critica ci chiudiamo e chiudendoci non lasciamo più modo all'altra persona di esprimere quello che era il loro pensiero e partiamo già molto prevenuti su qualsiasi cosa dirà dopo e quindi questo è assolutamente un male. Quindi, prima cosa, L, ascolta, listen. Poi, la A sta per annoge, 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 come si dice annoge, va bene, insomma, ammetti. Devi ammettere il fatto che tu abbia sbagliato, o meglio, devi capire che magari c'è qualcosa che tu possa migliorare. E chiediti, ok, di fronte a questa critica, cosa davvero io posso fare, ma non per lui, più per me, vediamola in modo costruttivo, no, anche egoistico se vogliamo. Ok, abbiamo ricevuto una critica, noi effettivamente cosa potremmo fare per migliorare quel punto che ci è stato criticato? Ci sono delle azioni concrete che potremmo fare e questo punto, una volta che hai ammesso appunto che hai una criticità, si lega molto al punto successivo che è appunto take action, cioè agisci in qualche modo. Ora, nel momento in cui abbiamo ammesso che abbiamo una colpa, possiamo fare qualcosa per migliorarci e cambiare e quindi prendere un'azione concreta fa sì che quella critica che in quel momento ci ha fatto male, che in quel momento può anche averci ferito e anche averci, come dire, destabilizzato un po' e magari frenato, può essere presa come punto di inizio per un nuovo percorso, può essere trasformata in un modo per dare energia a tutto quello che è il nostro futuro e il nostro progetto e le nostre abilità. Quindi, assolutamente take action, prendere, fare un'azione. E poi c'è l'altra T di latte, quindi abbiamo fatto L-A-T-T, la seconda T è thanks, quindi ringrazia. Ed è controintuitivo questo, no? Alle volte, quando una critica è fatta in maniera costruttiva e noi la prendiamo in maniera distruttiva, perché appunto, come dicevamo prima, siamo permalosi, non ci rendiamo conto di quanto utile invece in realtà potrebbe essere quella critica, quindi cerchiamo di ascoltare e capire se davvero questa critica è stata mossa per migliorarci e in quel caso ringraziamo. E in questo modo si aprirà un bellissimo dialogo. E nel momento in cui si apre il dialogo possiamo arrivare all'ultima parte che è explain, cioè spiega. Ora, una volta che sei arrivato lì, puoi anche concederti di spiegare un po' qual è il tuo punto di vista riguardo e spiegare anche perché magari non c'era arrivato a quella cosa, perché non l'avevi vista, perché per te non era un punto critico. E in questo modo si instaurerà un dialogo interessante con l'altra persona per riuscire a farti crescere ancora di più. Comunque di base c'è da ricordare questo, che qualsiasi cosa succeda è sempre, siamo sempre noi che possiamo dare un significato agli eventi e quindi grazie a questo cambiare la percezione delle cose che ci accadono. È sempre interessante partire con un focus interno, cioè sapere che non abbiamo il potere di cambiare le prospettive. Quindi, so che è difficile, spesso non ci riesco nemmeno io, però magari questo metodo latte può aiutare anche voi e spero che sia così. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Aspiranti Caffè. Ciao ragazzi! Grazie! Grazie! Grazie!